ci troviamo con dorote avere l'avevamo lasciata l'ultima volta in quel di anterselva giornata peraltro faceva anche freddo quella sera ad anterselva la ritroviamo oggi qui tanto d'ora come stai insomma oggi zatt vi ha fatto faticare parecchio eh sì diciamo che lavoro in pista è sempre molto faticoso rispetto allo schirol e poi io non sono una che corre fortissima quindi non sono proprio fisicamente dotata per la corsa diciamo così quindi comunque un bel allenamento di intensità quindi ci vuole ecco mi racconti un po com'è sta questo questo gruppo già lo avevi anche l'anno scorso questi giovani c'è lì a diciamo in più vedo che veramente un bel rapporto con loro si alla fine ci troviamo veramente tutti benissimo eh abbiamo un rapporto molto aperto onesto no se c'è qualcosa che non va ce lo diciamo non abbiamo paura di dire le cose secondo me è proprio questo che fa il rapporto ancora più bello poi sono ragazzi che si impegnano e sono tutti molto motivati e vogliono arrivare da qualche parte quindi mi piace questo contesto e tu puoi aiutarli un po magari insegnando anche qualcosina anche dando un po della tua esperienza beh ma sicuramente qualche consiglio non proprio come allenamento perché più che altro fuori d'allenamento magari li posso dargli qualche consiglio ecco siamo in in estate aspetto una lunga 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 preparazione quello che volevo chiederti come si riesce a rimanere sempre concentrati durante la preparazione visto che poi in realtà la stagione è molto ancora molto lontana cioè non è come nel calcio che è solo un mese di preparazione eh sì alla fine ci sono i mesi di preparazione sono molto più lunghi di quella di gare diciamo quindi è molto impegnativo e soprattutto l'estate quando fa caldo e sì è dura devi star concentrata e massimo impegno e ovviamente è difficile sempre ehm riuscire a combinare tutto perché comunque non è solo l'allenamento ma tante altre cose che che bisogna fare da atleti quindi sì Cosa ti motiva a farlo? Cosa ti spinge? Eh boh eh difficile dirlo alla fine non pensavo sicuramente di andare così bene l'anno scorso quindi forse per quello che mi ok ho ancora motivazione perché ovviamente se non avessi fatto i risultati che ho fatto sicuramente non avrei già smesso credo e alla fine dipende sempre come va la stagione secondo me boh vediamo Senti c'è qualcosa in particolare su cui eh lavorerai quest'anno? C'è aspetti su cui vuoi migliorare alcuni particolari? Alla fine secondo me devo solo mantenere alla fine eh il bello un po' di questo ultimo step diciamo è che non devo più o meno ho ottenuto tutto quello che che potevo dare e potevo fare e quindi adesso mh mio mio pensiero è solo a mantenere questo mh questa come posso dire diciamo questo livello questo livello sì non solo fisico ma anche mentale quindi vediamo No ecco e volevo dire che andrei anche a Viesbaden durante l'estate e ci saranno ho visto tante atlete che hanno lasciato che effetto ti farà gareggiare con loro? Ehm no beh sì diciamo che forse vado a Viesbaden non è ancora al 100% sicuro vediamo l'hanno annunciato loro boh e mi hanno inventato anche al Marten Festival quindi adesso devo un attimo capire cosa fare eccetera e poi le altre ovviamente Erman Reusland Ekoff o non so se c'è anche Ekoff e boh non mi ricordo neanche fanno una gara mi sa a parte quindi perché se no mi battono poi faccio una figura di merda Dici meglio evitare contatti con chi ha già smesso Nelle scorse settimane d'ora hai partecipato anche al corso allenatori l'hai fatto insieme anche a Lughi anche a Dominic raccontaci un po' come è stata come esperienza se ti ci vedi anche in un futuro Eh beh sicuramente è stato molto bello e ti hanno trasmesso tipo tantissima voglia di fare l'allenatrice soprattutto per i bambini e sicuramente sarebbe una bella cosa poi bisogna sempre vedere cosa porta al futuro Intanto eh ho fatto il corso allenatore fondo quello di Bietlon e poi c'ho qualche altro progetto adesso nei prossimi mesi e almeno metto un po' le mani avanti e più roba raccolgo adesso più possibilità anche dopo in futuro per scegliere cosa che strada intraprendere e però è stato molto molto interessante anche cose che magari come atleta ci vengono talmente automatiche Invece pensandoci tante cose non sapreste neanche spiegare perché per noi è tutto normale no? E quindi è stato molto bello E poi scopri anche un po' com'è dall'altra parte peraltro tra i tuoi insegnanti c'era proprio Fabio Cianciana Sì sì c'era anche Fabio ovviamente lui faceva più la calibro il calibro 22 poi c'era anche la Barbara Ertl che lei faceva tutto l'area compressa e quindi quello è stato molto interessante perché comunque da vent'anni vent'anni fa che facevo l'area compressa quindi tante cose non mi ricordavo neanche e sì è stato molto informativo Grazie a tutti